Carissimi amici ascoltatori, benvenuti e bentrovati. Siamo di nuovo insieme pronti a partire per affrontare una nuova intervista. Sempre all'interno della nostra consueta è seguita rubrica medicinaregionelazio.it, una rubrica interamente dedicata alla salute, alla medicina, alla prevenzione e al benessere a 360 gradi, ma anche dedicata al mondo della psicologia e della psicoterapia. Ed oggi siamo proprio in sono, in compagnia di una psicologa infantile che presta la sua attività presso Naunlus tutti giù per terra. Parleremo della sua professione legata alla terapia cognitivo-comportamentale su bambini e ragazzi con sindrome dello spettro autistico, sindrome di Asperger, ritardi mentali, DSA, DDI, insomma chi più ne ha più ne menta scopriremo vari aspetti legati al suo lavoro. Anche guardando al futuro di tutto questo lo condivideremo con la dottoressa Siria Baffetti. Benvenuta all'interno della nostra rubrica. Ciao a tutti. Salve, salve dottoressa Baffetti, un saluto a lei, un piacere, un saluto agli ascoltatori. Dunque, quando, insomma come si è avvicinata al mondo della psicologia, tanto tempo addietro, come mai si è focalizzata su quella infantile, un ramo specifico e ben preciso? E poi, quando e come nasce la Onlus tutti giù per terra e l'evoluzione di tutto questo fino ad oggi? Mi sono avvicinata alla psicologia, soprattutto a quella infantile, grazie al tirocinio proprio presso la Onlus tutti giù per terra. Sì. Durante questo tirocinio mi si è aperto a questa finestra su un mondo a me sconosciuto e mi sono appassionata giorno dopo giorno con grande amore. E quindi mi sono voluta specializzare nel campo della psicologia infantile, facendo molti corsi, prendendo molti master. La Onlus tutti giù per terra è una cooperativa sociale che si occupa appunto dei disturbi cognitivi comportamentali, quindi parliamo di soggetti che vanno dall'infanzia fino all'adolescenza. Oltre ai disturbi cognitivi comportamentali abbiamo appunto la sindrome dello spettro autistico, la sindrome di Asperger, ritardi mentali, sindrome di Down, DSA, DDA che sta per disturbo da deficit dell'attenzione e l'iperattività. Ecco, ci sono veramente tante patologie e tanti disturbi e io dedicherei tranquillamente ad ognuno di essi il tempo dovuto. Purtroppo nel tempo a disposizione insomma cerchiamo di andare avanti nella maniera migliore possibile, ma era un punto efficace dalla quale partire, grazie di averlo condiviso. Volevo anche invitare tutti coloro che sono in ascolto a condividere tutto questo tramite i canali, i profili social in maniera rapida, efficace e sempre aggiornata. Ecco, facciamo un po' più un focus insieme, tante curiosità, ma nello specifico cos'è che caratterizza fortemente la Onlus tutti giù per terra? Le peculiarità, i punti di forza che rendono importante e riconoscibile anche così apprezzata questa realtà impegnata soprattutto nel campo del sociale e sotto questo punto di vista. Gli elementi che più la gratificano nel suo lavoro, mette sempre in risalto in prima linea, ma anche quelli che comportano una maggiore responsabilità quotidiana. La Onlus tutti giù per terra, come già ho detto, è una cooperativa sociale che lavora molto sul territorio. I punti di forza che a 360 gradi occupa molti aspetti, lavora su molti campi, quindi partiamo che il bambino viene seguito a scuola, a casa, dopo scuola, quindi questi sono molto importanti perché il bambino non viene mai mai lasciato solo, quindi dal giorno fino alla notte, seguito sempre da qualcuno e da professionisti. Noi siamo tantissimi in questa cooperativa, ci sono logopetisti, psicologi, operatori, os, educatori, quindi ognuno è specializzato in un settore e questo è proprio il punto di forza. L'unione fa la forza, insomma un team, un'equipe ben precisa ed è giusto che ogni figura abbia la sua sfera, il suo campo di interesse. Io sono personalmente, così come me, tanti nostri ascoltatori, sempre stato affascinato dalla psicologia in tanti aspetti, anche da quella infantile, io penso insomma chiunque sia in ascolto e abbia anche avuto modo e fortuna di lavorare con tanti bambini anche nei campi estivi, d'estate si ha tanta occasione di farlo, sa quanto sia bello, importante, veramente meraviglioso stare a contatto con tanti bambini e c'è tanto da imparare, veramente noi adulti crescendo si prendono, anzi si ergono tante barriere, si perde un po' quella genuinità e quella purezza, purtroppo veniamo contaminati e quindi è bello anche approfondire ma stare vicino anche a loro nei momenti di difficoltà e condividendo con loro anche determinate patologie perché non c'è solo il bene ma ci sono anche degli aspetti più difficili da affrontare. Purtroppo le barriere sono ancora troppo alte sulla disabilità nel 2020 e ancora non vengono accettati, ancora non c'è l'interazione sociale nell'ambito lavorativo, ancora ci sono molte difficoltà per trovare una sistemazione, anche la preoccupazione dei genitori che cosa succederà quando noi non ci saremo più e questa è una realtà veramente difficile però sono fiduciosa, quindi speriamo negli anni a venire che tutto si risolverà. Ecco speriamo soprattutto in supporti derivanti da professionisti come lei, insomma cari genitori, se ne ascolto c'è qualcuno che ha un figlio o una figlia che presenta una di queste determinate problematiche, sappiate che non siete e i vostri figli non sono soli perché ci sono sempre strutture che nel futuro comunque anche qualsiasi cosa succederà potranno prendersi efficacemente cura di loro. Tante cose mi vengono in mente ma prima di evolvere, perché veramente è un discorso estremamente vasto, ma prima di evolvere in conclusione, dottoressa, una curiosità derivante da un momento magari particolare nel suo lavoro in questo ambito che l'ha colpita, magari appartenente anche a un recente passato, che è rimasto impresso nella sua mente, porta sempre nel cuore, l'accompagna sempre e spicca in mezzo ad altri. È stato fonte di particolare gioia, emozione, condivisione e magari anche un momento commovente, non so. Di momenti commoventi ce ne sono moltissimi perché questo lavoro stupisce giorno dopo giorno. Questi ragazzi, bambini, in base alla fascia d'età, riescono a ottenere dei risultati in tempi brevi. È vero che ogni bambino ha dei propri tempi, però grazie alle tecniche che noi utilizziamo riusciamo ad avere qualcosa in cambio. Quindi l'emozione c'è sempre, ad esempio vedere un bambino iperattivo, appunto il disturbo da deficit dell'attenzione e iperattività, vedere che dopo qualche mese o un anno riesce a stare seduto per un quarto d'ora e prestare attenzione su un gioco, per me è sempre commovente. È già un progresso poi, fa pensare bene e presagire positivamente per il futuro. Queste sono veramente soddisfazioni, come si dice, è un qualcosa anche che non apprezzo e che talvolta è difficile, anzi spesso è difficile descrivere a parole, è più facile sentirlo dentro di sé e l'accompagnerà sempre nella sua vita, insomma, nella mente e nel cuore. Siamo giunti in conclusione, ecco, il suo futuro come psicologo infantile nella gestione, nell'affrontare tutte queste patologie diverse relativamente al mondo infantile e anche il futuro della Onlus Tutti Giù per Terra, della quale fa parte. Quale sarà e come potrebbe evolvere in futuro la psicologia infantile in una società che cambia continuamente, è in continua evoluzione, trasformazione, non è mai uguale a se stessa, insomma, procede come il tempo, va sempre avanti e spesso ribalta i nostri meccanismi e convinzioni e coglie tutti noi di sorpresa. Per fortuna abbiamo sempre i corsi di aggiornamento, quindi io la psicologia infantile la vedo sempre migliore, anno dopo anno, proprio perché grazie a questi corsi escono nuove tecniche, nuove strategie. La Onlus Tutti Giù per Terra è una Onlus fantastica, grande, siamo veramente una grande famiglia, siamo sempre appunto alla ricerca di nuovi professionisti per ampliare sempre di più il nostro lavoro, quindi vedo un futuro raggiante. E per quanto riguarda il mio lavoro, mi impegnerò sempre giorno dopo giorno per migliorare questi ragazzi. Sarà una naturale evoluzione, io le auguro il meglio, ma sicuramente succederà, è questione di tempo, sulla scia, insomma, del suo impegno, amore e passione in tutto questo, tantissime gratificazioni personali e professionali e tantissima condivisione con ragazzi, bambini e bambine meravigliosi, ognuno di loro è unico. Dottoressa Siria Baffetti, psicologa infantile presso la Onlus Tutti Giù per Terra, il suo cellulare 333 4894598, l'indirizzo della Onlus, via Giuseppe Lazzati, Roma. La pagina Facebook, Dottoressa Baffetti Siria, visitatela numerosissimi, mi raccomando mettete tanti like, tanti mi piace, condividete il più possibile, fate girare all'interno, foto e descrizioni sempre aggiornate, non manca nulla, condividete, più siete meglio è. Per concludere, l'indirizzo email siriabaffetti-gmail.com Abbiamo concluso, un saluto e un ringraziamento ancora alla Dottoressa Siria Baffetti. Grazie a voi. Grazie a lei, un saluto a tutti.